L'inizio di una relazione è il punto critico, perché se la imposti, se viene impostata in un certo modo, poi prende una certa piega ed è difficile farla ritornare indietro. Supponiamo che lui ti piaccia, gliel'hai fatto capire, lui ti ha invitato, insomma siete usciti, lui dopo un appuntamento o due ti porta a letto, ma supponiamo che anche diciamo dal punto di vista sessuale ti faccia un'ottima impressione, ti faccia provare orgasmi che per te erano solo più dei lontani ricordi. Però poi dopo quando tu inizi a guardarti il dito anulare sinistro e vedi un bel anello di fidanzamento, immagini un bel anello di fidanzamento, succede che invece lui non si fa sentire e tu di fatto sei mille miglia lontana dalla sua mente. Se tu lo cerchi per uscire, lui svicola, poi si ripropone in un altro momento e tu memori degli orgasmi precedenti, siccome ovviamente le donne sono fatte di carne e quindi anche a loro piace provare delle sensazioni fisiche piacevole, accetti di rivederlo e insomma rifatte l'amore e poi di nuovo lui inizia a cincischiare, sparire, non si fa mai sentire, se tu gli mandi un sms ti risponde ma con un certo ritardo e insomma non si fa vedere molto presente nella tua vita, non si pone come uno che vuole fare una storia, che vuole avere una storia, una storia seria con te e allora l'unico modo per sbloccare questa situazione è uno solo ed è quello che nel momento clou devi sparire, sparire completamente, il momento clou cos'intendi? Il momento in cui lui si crede che tu sei diciamo innamorata di lui e quindi lui può prendersi diciamo tutti i suoi tempi, vederti saltuariamente per incontri sessuali e basta e quindi diciamo ha questa certezza. Quindi a quel punto lì ti conviene agire in questo modo, dargli veramente questa certezza, dargliela, cioè nel senso fare ancora di più la geisha di quanto istintivamente facevi, però poi devi sparire completamente e diciamo devi cancellarlo completamente dalla tua vita. Se chiama, se ti chiama non rispondere almeno per le prime due o tre volte e in modo tale da vedere se lui continua a richiamare. La terza volta prendi la chiamata e gli dici che no guarda è un momento in cui sono un po' incasinata o un po' di cose e poi magari ci risentiamo in un altro momento e tagli subito la conversazione nel giro di due, tre, quattro secondi e vedi il suo comportamento. Se ad esempio lui ti manda dei messaggi, inizia a scriverti come mai, devi essere lapidaria nelle risposte, poi ti spiego, grazie, punto. Finisce lì, tre parole al massimo. Ecco quindi che nella sua mente inevitabilmente inizierà a pensare qualche cosa e siccome diciamo perdere l'osso non piace neanche al cane, in qualche modo cercherà di fare delle cose per riconquistarti, per almeno ritornare ad una situazione precedente. Ecco questo per te deve essere un nuovo inizio, deve essere un nuovo inizio in cui siccome si è ribaltata la clessidra devi iniziare a impostare delle condizioni che vadano perlomeno nella direzione di relazione che tu auspichi avere. Bene, per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo, ti invito a seguirmi sul blog www.sinunzionovip.com. Ciao!